pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa terza domenica del tempo ordinario entriamo nel vangelo secondo marco che ci accompagnerà lungo quest'anno liturgico abbiamo l'inizio della missione pubblica di gesù o meglio della sua missione itinerante con la proclamazione del vangelo di dio è la chiamata dei primi discepoli noi entriamo in questo testo aiutati da una domanda cosa significa concretamente convertirsi perché è così importante quale bellezza nasconde ciò che il signore ci chiede vediamo un po gesù inizia la sua missione itinerante è come vi dicevo proclama il vangelo di dio la buona notizia di dio che è lui stesso che è la salvezza che lui ci offre e nella proclamazione di gesù abbiamo quattro punti importanti due punti riguardano l'agire di dio il tempo è compiuto il regno di dio è vicino quindi la risposta a cui siamo chiamati con altri due punti convertitevi e credete nel vangelo qui nascosto c'è un tesoro primo punto il tempo è compiuto cosa vuol dire che con gesù si è conclusa l'attesa in lui hanno compimento tutte le promesse di dio e cioè la salvezza la liberazione dal peccato la possibilità di vivere in comunione con lui di essere resi capaci di amare come lui e divinizzati per essere uno con lui cosa dice questo alle nostre vite anzitutto che in gesù si compiono le attese più profonde del nostro cuore spiego ognuno di noi desidera profondamente essere amato e amare è nato per essere felice desidera una vita piena eterna beata una pace profonda che nulla possa togliere ma ci rendiamo conto che per quanto ci buttiamo sulle cose da fare nelle relazioni anche le più belle per quanto ci apriamo agli altri per quanto riceviamo tanto bene e tutto ciò riempie di bellezza le nostre vite tuttavia non sazia fino in fondo il nostro cuore se come diceva sant'agostino non riposa in te o signore cioè non abbiamo il cuore aperto a lui non regna lui in noi non preghiamo non lo frequentiamo non stiamo con lui come non posso riempire una cisterna da mille litri con un bicchiere d'acqua così non posso saziare il mio cuore fatto dall'infinito e per l'infinito con le cose create ma il fatto che il tempo sia compiuto ci può dire anche altro ci dice che oggi è l'occasione oggi è il momento giusto noi a volte giochiamo al rimando ad esempio avremmo a cuore di ritornare magari a dio di iniziare un cammino di cambiamento di mettere in atto degli atteggiamenti nuovi sentiamo nel cuore il desiderio di migliorare però ma sì poi poi c'è tempo oppure altre volte ci aspettiamo la felicità dal cambiamento delle situazioni e delle cose quando cambieranno le cose allora sarò felice no il signore ci dice oggi oggi puoi rinascere oggi voglio entrare di più nel tuo cuore oggi ti offro il mio perdono oggi voglio essere uno con te nella tua sofferenza oggi non poi allora il tempo è compiuto e poi gesù dice il regno di dio è vicino è un modo per dire che dio è venuto a regnare cioè la sua presenza è stabile nel mondo grazie alla venuta di cristo e regna nei cuori di coloro che lo accolgono qualcuno potrebbe pensare bello sì bello di oregna nel cuore bella immagine ma insomma in soldoni che vuol dire vuol dire che lui vuole essere stabilmente presente in me infondere in me i suoi sentimenti e orientare la mia vita secondo la sua volontà cioè secondo l'amore pieno questo significa che la mia vita può essere liberata cioè grazie alla sua presenza in me io man mano posso essere liberato dal mio egoismo certo grazie anche ai miei sì all'amore rinnegando me stesso vuol dire che posso essere liberato dalla paura della morte e imparare ad amare a donarmi fino in fondo vivere cioè una vita da figlio di dio essere reso capace di amare da dio papa benedetto sedicesimo fece un bell'esempio disse la corrente elettrica a occhio nudo non la vedi ma quando è presente ne vedi gli effetti ad esempio la luce così è lo spirito santo quando è presente nella vita di una persona tu a occhio nudo non lo vedi ma ne vedi gli effetti vedi cioè i frutti della sua presenza ecco l'amore la gioia la pace quante persone abbiamo incontrato uomini e donne veramente cristiani uomini e donne di dio capaci di trasmettere dolcezza tenerezza forza bellezza gioia ecco quando dio regna nel nostro cuore la smette di regnare il nostro egoismo non siamo prigionieri degli imbrogli del maligno e la nostra vita brilla di una luce nuova quindi miei cari il tempo è compiuto il regno di dio è vicino perché mi sono dilungato su questi due punti perché si parte dalla bellezza se no non capiamo la conversione continueremo a pensarla come un qualcosa di pesante di di obsoleto di oppressivo qualcosa che la chiesa ci chiede perché non vuole che viviamo le gioie del quotidiano qui il signore ci sta dicendo guarda che è arrivata tanta bellezza la salvezza in me è arrivata ti offerta la possibilità di vivere da figlio di dio e di amare da dio voltati convertiti credi nel vangelo cioè credi in me ci dice gesù volendo usare due immagini il sole è sorto rivolgiti verso di lui oppure la salvezza c'è la porta si è aperta varcala non continuare a sbattere craniate laddove la parete è chiusa anticamente nel battesimo degli adulti vi era un segno molto indicativo il catecumeno voltava le spalle ad occidente talvolta dopo aver sputato ho fatto un gesto di disapprovazione si rivolgeva verso oriente dove sorge il sole si inginocchiava questo simboleggiava il desiderio e la scelta di rinunciare al male al peccato e volgersi verso cristo non una sola volta ma per tutta la vita sì miei cari perché la conversione non è qualcosa che riguarda solo i non credenti o che si esaurisce nel momento in cui aderiamo a cristo quella potremmo dire la prima conversione ma il cammino di conversione dura tutta la vita perché ogni giorno siamo chiamati ad uscire da noi stessi e dire sì all'amore dire sì alla parola di dio per lasciare tutte le false sicurezze tutti quegli idoli cioè quelle cose situazioni persone alle quali ci siamo attaccati disordinatamente per aderire sempre più a lui affinché la nostra vita diventi un dono d'amore ogni giorno potremmo dire siamo chiamati a fare come i girasoli che seguono il sole ovunque vada e lasciatemi passare l'espressione proprio per questo il somigliano qui abbiamo proprio il significato fondamentale della conversione nella vita morale spirituale convertirsi significa rivolgersi dal male al bene dal peccato all'amore di dio nella scena della chiamata dei primi discepoli lo vediamo potremmo dire simboleggiato in un modo concreto convertirsi vuol dire seguire gesù seguirlo vuol dire imitarlo scegliere ciò che lui avrebbe scelto amare come lui avrebbe amato anzi come lui ama in noi capite che qualcosa allora di molto concreto ecco perché gesù ci dice convertitevi e credete nel vangelo fidatevi di me poggiatevi sulla mia parola perché possiate agire e scegliere come me essere altri piccoli soli direbbe san gregorio ecco mi piace rappresentare ciò con la leggenda del quo vadis si racconta che san pietro giunto ormai a roma dove guidava la comunità cristiana durante la persecuzione di erode ad un certo punto decise di lasciare la città per mettersi in salvo mentre stava uscendo dalla città ebbe una visione vide gesù carico della croce che andava nella direzione opposta da qui la domanda quo vadis domine dove vai signore vado a morire di nuovo a pietro gesù proseguì la visione svanì pietro comprese si voltò potremmo dire convertì il suo cammino e ritorno a roma dove rimase con la comunità e diede la vita per il signore testimoniando così fino alla fine la sua fede e il suo amore concludendo con le parole di papa francesco cari fratelli e sorelle quante volte anche noi sentiamo l'esigenza di un cambiamento che coinvolga tutta la nostra persona quante volte ci diciamo devo cambiare non posso continuare così la mia vita per questa strada non darà frutto sarà una vita inutile e io non sarò felice e gesù accanto a noi con la mano tesa ci dice vieni da me il lavoro lo faccio io io ti cambierò il cuore io ti cambierò la vita io ti farò felice ma noi crediamo in questo o no gesù è con noi e ci invita a cambiare vita e lui con lo spirito santo che semina in noi questa inquietudine per cambiare vita ed essere un po migliori seguiamo dunque questo invito del signore e non poniamo resistenze perché solo se ci apriamo alla sua misericordia noi troviamo la vera vita e la vera gioia lui fa tutto ma a noi spetta spalancare il cuore perché lui possa guarirci e farci andare avanti e vi assicuro così saremo più felici che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti